Una brutta pagina per Vignola e chi appunto ha fatto questo e questo gesto ovviamente secondo me se ne deve vergognare e per quello che lo conosco tramite la persona che conosco gli ho già anche detto che a mio avviso deve chiedergli scusa. Personalmente ho telefonato a Federica portando ovviamente tutta la mia solidarietà per quanto accaduto. Io ero presente al comizio, ero nelle prime file, non mi sono accorto di nulla. Alla fine quando è andato via il senatore Salvini ho chiesto alle forze dell'ordine presenti e c'era il comandante della compagnia dei carabinieri, c'erano vari responsabili della Digos, c'era un ispettore da parte della polizia municipale e diversi agenti anche della polizia locale. Ho chiesto a loro se c'erano situazioni e nessuno mi ha rilevato, tanto è vero non mi ha detto nulla di qualcosa da segnalare. Il giorno dopo mi ha telefonato un giornalista dicendo mi è accaduto questo, vai a vedere la pagina Facebook e sono andato a vedere la pagina Facebook di Federica e ovviamente la situazione è grave. Non ci sono ovviamente giustificazioni a quanto è avvenuto, come ho già dichiarato. Certo è che appunto a mio avviso se si voleva fare un dibattito un po' più proficuo e produttivo queste interrogazioni si poteva trovare il modo di trasformare, tanto farle per venire come quelle che arriveranno dopo. Capite bene, mi rivolgo soprattutto al pubblico, che averle qua al momento non aiuta per l'esostività della risposta, tant'è vero che in qualsiasi regolamento comunale che abbiamo visto è una anomalia tutta vignolese, perché sì quanto più spazio si vuole dare ovviamente alle domande, anche dell'ultimo minuto, capisco bene, ma averle, visto che è anche da giorni che qualcuno ha pubblicato che ci sarebbero state queste interrogazioni, quindi se c'era già l'intenzione, se si voleva fare un servizio alla comunità, almeno di chiarezza, poi dopo di chiarezza nelle opposte vedute, di chiarezza nelle ovviamente opinioni che possono essere contrastanti e quant'altro, se uno riesce a prepararsi un po' meglio la risposta prima ovviamente questo aiuta il dibattito. Ecco, e quindi su questo l'invito ovviamente alle opposizioni di, d'altra parte, questo regolamento poi non consente ovviamente a tutto il Consiglio di poter intervenire, quindi questa cosa è limitante, perché alla fine della mia risposta i consiglieri potranno esclusivamente dichiararsi se sono soddisfatti o insoddisfatti, per la verità c'è un dubbio interpretativo, se si devono fermare a dire sono soddisfatto o insoddisfatto o se possono anche ulteriormente argomentare e allungare la situazione. Questo appunto come regolamento sarebbe meglio opportuno dirlo. Quindi, uno, quando ho ricevuto l'oggetto di svoltimento, sia quando sono state richieste necessarie autorizzazioni, l'avrete adesso, quando sono state richieste e concesse, questo è dall'accesso agli atti, la data precisa, non la posso ricordare. Se al corrente di episodi che si siano verificati, mi pare di avere risposto. Se la manifestazione di Bambinopoli ha comportato una parziale modifica degli appuntamenti, già che le indarizzate, assolutamente no. L'unica cosa che c'è stata rispetto al calendario, l'anticipo della premiazione, dello sportivo dell'anno, delle varie menzioni, della vita per lo sport, cioè quella commissione a cui è stato fatto per esigenze del talent, cioè il conduttore che, insomma, il professionista ci ha chiesto di non interrompere il talent, perché inizialmente era stata prevista, diciamo, un intermezzo di questa premiazione all'interno del talent, così da protocollo, invece, tanto è vero che appunto mi chiamò l'assessore Venturi e anche l'addetto stampa, dicendomi, guarda che per esergenze tecniche c'è il bisogno di anticipo di questa premiazione, perché non vuole intermezzi e spezzare, visto che anche il tempo minacciava di pioggia e quant'altro. Quindi l'unica modifica che c'è stata al palinsesto, diciamo, tra virgoletta, è stata per questo qua. Per rispondere all'altra, se è verificato che qualcuno dei nostri tesserati ha sbagliato, questo non sono ancora in grado, ovviamente ho segnalato, non sono tra i responsabili della Lega del Comune, credo che faranno tutto quello che c'è da fare, perché ovviamente questo atto sicuramente porta in cattiva, assolutamente in cattiva luce a un movimento politico che c'è da anni su Vignola. Penso che né i responsabili e né chi ci ha messo la faccia per questo movimento su Vignola da tanti anni ha anche avuto il consenso proprio per non avere mai posizioni estreme, per non avere posizioni ovviamente di, anzi, assolutamente di buona educazione. Sappiamo, è successo anche l'ultimo Consiglio dell'Unione, su cui appunto credo di aver dato dimostrazione che appunto meno che in altre occasioni si tollerano certe situazioni. Ecco, quindi è capitato in tempi non sospetti, quindi questo posso citarlo in questo senso. E credo che da parte della Lega Vignolese ci sia questa ferma intenzione ovviamente di condannare questi atti e coloro che ovviamente se ne macchino, se fanno parte ovviamente di quel movimento, i provvedimenti sono più che doverosi. Al resto, anche qua, avete bevuto l'acqua di era che tanto ricorda quelle delle sorgenti? Mauro, ma Maurino! Non hai mai sentito parlare di abuso d'ufficio? Sì, ho studiato l'abuso d'ufficio, non avendo fatto degli atti si risponde da solo, però è un'accusa abbastanza grave. Niente. No, c'è un'altra domanda, ma è particolarmente imbarazzante, non la leggo, neanche il sottoscrittore non l'ha letta, quindi non... Ok. Volete? Allora, dichiaratemi la vostra insoddisfazione, così la chiudiamo qui. No, io mi richiaro soddisfatta, devo essere sincera. Io volutamente non ho tirato fuori l'episodio riguardante Federica, perché penso che questo rientri nella disponibilità dei diritti di Federica e della sua famiglia. Se ci sarà l'occasione, verranno individuati i responsabili, giustamente noi interverremo con un altro tipo di provvedimento ad hoc. Quindi è stata una scelta. Io avevo anticipato, però, che tipo di interrogazione avremmo fatto, e mi sembra che, tutto sommato, le domande che noi avevamo poste hanno avuto una risposta. Chiaramente, la completa soddisfazione si potrà avere solamente quando avremo a disposizione i documenti oggetto di accesso agli atti. Grazie, Zagnoli. Prego, Smeraldi. No, la cambia, non è soddisfatta, non è soddisfatta perché non c'è stata risposta alle domande. Tra l'altro faccio solo presente questo, che anche noi, siccome ne siamo capaci, abbiamo fatto un accesso agli atti, non soltanto il Partito Democratico. Ricordo anche il Sindaco, qualora se ne fosse dimenticato, il Conte Sindaco di Vignola, e anche Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale dell'Unione della Terra di Castelli. Quindi dire che le autorizzazioni sono di competenza di altri organi mi sembra un po' azzardato. Quanto le parole, per essere ancora più precisi, poi avrei delle altre cose, ma siccome c'è il dibattito sul fatto se si possa solo dichiararsi soddisfatti o soddisfatti, quante le parole di Federica che abbiamo citato nella nostra interpellanza, ovviamente avevamo il consenso di Federica farlo, quindi non è questione, come dice Antonio Zagnoni, di essere discreto e indiscreti. Abbiamo chiesto a lei se potevamo mettere nella nostra interrogazione quelle parole che ci sembravano le più significative. Dire che è di competenza di un ufficio o dell'altro, abbiamo parlato prima dell'edilizia, cosa devo dire? Che il rilascio di quelle autorizzazioni siano di competenza del Sindaco? No, sono di competenza. Si spera che c'è la parte politica normalmente che fa una regolamentazione, oppure si rinvia a delle normative, diciamo, fatte da politici, uso un gergo così, e poi c'è dei funzionari che applicano questi regolamenti. E il rilascio di autorizzazioni è di competenza e in questo caso non c'è discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale di Vignola, ma penso che non ci sia discrezionalità da parte neanche dell'amministrazione di Modena, di Bologna o di Pavia. Cioè, un comizio politico, ci sarà un regolamento, potranno essere diversi, c'è un momento ovviamente discrezionale e poi c'è un organo preposto di funzionari pubblici, di funzionari pubblici che rilasciano o non rilasciano. In questo caso non mi risulta neanche che sia ascrivibile tecnicamente a un'autorizzazione, ma una comunicazione e una di fatto presa d'atto da parte dei servizi competenti. Perché stiamo parlando di altra cosa, e colgo l'occasione, che appunto hanno normative completamente diverse per quanto riguarda, facciamo l'esempio, ci fosse un concerto delle sicurezze con una sua disciplina, invece ovviamente un comizio politico ha una sua disciplina, il mercato ambulante o il mercato di risurdo ha tutta un'altra disciplina, sono discipline legislative completamente diverse. Non è possibile il dibattito, non lo so, Smeraldi, Valmori, lo sai anche tu, dai, su, dai mo, non facciamo polemiche che non servono a niente, dai, su, andiamo avanti con... Scusa, essendo di nuovo intervenuto il sindaco, vuol dire questo, noi non abbiamo parlato di discrezionalità nel rilascio d'autorizzazioni, però il sindaco farebbe torto l'intelligenza nostra e dei cittadini se volesse sostenere che la Polizia Municipale non lo ha avvertito della richiesta di questo banchetto della Lega, lui non ne fosse conoscenza, e della presenza di Salvini. Cioè, ragazzi, cerchiamo di essere seri, su. Allora, Salvini ha già risposto, ha già risposto, è inutile che torni a dire il contrario di quello che ha detto. Cioè, l'autorizzazione, la presa d'atto del banchetto la sapevamo e la conoscevamo. Il comizio solo la Polizia Locale l'ha imparato, come me, il sabato pomeriggio. Cioè, se l'onorevole senatore Salvini ha deciso di venire sotto... Comunque, Mauro, se il tuo problema è quando viene un politico a Vignola, veramente, vuol dire che proprio dei problemi non ne hai, sei un uomo fortunato, veramente, guarda. Andiamo avanti con le altre interrogazioni. Ah, ma si mettono d'accordo loro, chi vuole... Chi parte? Parlo io. Vai Enzo. No, anch'io sono rammaticato, rimango un secondo sul discorso, ma un secondo, come Valmori, che non si possa ribattere. Però è meglio finirla qua. Il discorso delle interpellanze orali che, in qualche modo, vengono all'attenzione della Giunta all'ultimo istante, è vero, può creare qualche problema, però, dobbiamo anche dire che, in alcuni casi, nascono proprio alla fine, nascono, cioè poco prima che ci sia il Consiglio Comunale. Quindi, secondo me, ha anche un senso confrontarsi su qualcosa sulla quale non si è così preparati, insomma. Abbiamo tutti gli strumenti di razionalità e di cultura per affrontare un discorso che non sia stato preventivamente letto. Passo alla nostra interpellanza. L'oggetto è il centro storico. L'argomento dell'interpellanza è di notevole peso specifico in quanto centrale nella vita e nella storia di Vignola. Se guardiamo l'attenzione a esso rivolta nel tempo dalle diverse amministrazioni comunali, constatiamo, soprattutto, con poche eccezioni, una volontà di soprassedere, cioè di non impegnarsi. Eppure, il nostro piccolo centro storico presenta problemi che andrebbero affrontati con sollecitudine, operando scelte coraggiose, senza il timore di intaccare consenso e popolarità. Non intendiamo soffermarci sugli insieme delle questioni, non può essere la sede, ci limitiamo a sfiorare il tema mobilità, in realtà meritevole di un confronto di ampio respiro, non riducibile alla nostra serata di Consiglio Comunale. Questo però possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che il traffico automobilistico nel centro storico, nelle attuali condizioni, è elemento di contrasto alla vivibilità dei residenti e dei frequentatori. Suggeriamo per ora un piccolo intervento, io ho scritto interventino con le virgolette, indolore, secondo noi, anche per coloro che vorrebbero utilizzare l'auto dovunque e comunque. Questo intervento darebbe un primo contributo al ridimensionamento di pericolosità, inquinamento e fastidio. È questo l'intervento proposto. Chiusura totale per i mezzi a motore dell'accesso da via Ponte Muratori in via Bernardoni, utilizzato come scorciatoia da tanti veicoli per raggiungere Marano e altre destinazioni analogamente orientate. Adesso l'ingresso, dal 2016 direi, è interdetto dalle 20.30 alle 8.30 del mattino, ma in assenza di barriere il divieto non viene rispettato. Chiediamo, con convinzione dovuta a un'analisi ormai pluriannale della situazione, venga analizzato a fondo il contesto indicato e conseguentemente sia preso in seria considerazione